Va Serginio, rincorsa, tiro alto di Serginio, vai Dida, ecco Hamann, si ferma il tiro, gol di Hamann, il gol di Hamann, 1-0 per il Liverpool, ecco Pirlo, il tiro, è la parata del quartiere, 0 rigori per il Milan, 2-0 rigori per il Milan, Serginio, Pirlo, basti, se attenzione, il tiro, gol, 2-0 per il Liverpool, sarebbe bello adesso vincere il 3-2, forza, crediamoci tutti insieme, vai Thomasson e metti intanto questo, e metti intanto questo Thomasson, 2-1, attenzione, rise, vai e parami questo rigore, caro Dida, tiro, parami questo rigore, Dida, mio, perché adesso vinciamo 3-2, ve lo garantisco io, va KK contro Dudek, vai KK, non ho dubbi, tiro, ed è il gol, perché non ho dubbi, e siamo 2-2, vai, non avere dubbi, caro, caro Stefano, ecco, il gol per il mister, ed è il gol del 3-2, Serginio contro Dudek, Masceva, vediamo, il tiro, la parata di Dudek, il Liverpool ha vinto la Coppa dei Campioni, il Liverpool ha vinto la Coppa dei Campioni, il Liverpool ha vinto la Coppa dei Campioni,